Qualche giorno fa, mentre al Cairo il tribunale egiziano ha confermato la prigionia dello studente Patrick Zaki, allo stesso tempo al municipio di Parigi Macron stava tenendo una cerimonia congiunta passata sotto silenzio in Francia, neanche menzionata poi così tanto nell'agenda di Macron, nella quale si è andata a conferire al presidente egiziano Al-Sisi la gran croce della legion d'onore, un atto simbolico che servirebbe a coronare la lunga partnership finanziaria ed economica tra i due paesi, tra Francia ed Egitto. Per venire a conoscenza dei fatti, molti hanno dovuto spulciare all'interno dei siti governativi egiziani dal momento che in quelli dell'Eliseo non si faceva neanche minimamente menzione a questo accaduto. Ma le foto che mostrano l'incontro tra Macron e Al-Sisi, Macron che concede la legion d'onore al presidente egiziano, sono soltanto l'ultima eloquente contraddizione che esiste nell'universo degli interessi economici e politici tra mondo occidentale ed Egitto. Pensiamo all'ultimo G7 di Biarritz, quando Al-Sisi si trovava intorno al tavolo delle grandi potenze, nella veste di ospite d'onore del presidente francese. La domanda che molti si sono posti all'epoca è stata cosa c'entra, cosa c'azzecca, il raiz di uno stato golpista in un summit tra i paesi più sviluppati della Terra. Squadroni aerei, fregate navali, petrolio, gas e tecnologia. Queste sono soltanto alcune delle risposte che non guardano in faccia alla morale di una scomparsa, ad esempio come quella di Regeni. Ma come vedremo non è tutto. Le squallide accuse, mosse da chi incolpa Giulio svilendone la memoria, hanno lo stesso valore di chi la pensa, cioè pari a zero, o meglio, pari al livello igienico di una cloaca. Tanto baccano per la morte di un ultras comunista che va dal diavolo, come detto dalla conduttrice Rania Yassen di Al-Arabia. Oppure Giulio tradito dalla sete di rivoluzione, come scritto sul giornale nel febbraio del 2016, o ancora come non menzionare il fantastico Se l'è cercata, la celebrazione tipica del qualunquismo bieco e ottuso, di chi spacciandosi per finto patriota non comprende dall'alto del suo cervelletto che il caos, il caso o il caos, come lo vogliamo chiamare, Regeni, ha delle implicazioni molto più profonde di un semplice squadrismo calcistico tra comunisti e fascisti. Sul piano giuridico il caso Regeni rappresenta anzitutto la violazione illegittima del diritto alla vita di un cittadino prima di tutto italiano, non marziano. Quando uno pensa a quello che è accaduto, a quello che è avvenuto a Regeni, è poi anche lecito chiedersi quale sarebbe la differenza con i desapare sidus dell'Argentina degli anni settanta, quando il generale Vidella faceva scomparire i suoi oppositori con i cosiddetti voli della morte, cioè buttando i prigionieri direttamente nell'oceano dagli aerei, solo però dopo averli pugnalati così che il sangue potesse attirare gli squali ed evitare in questo modo di ritrovarsi le coste infestate di corpi spiaggiati. Il fatto è che per la Nato l'Egitto è sempre stato un paese amico e con il quale fare affari, indipendentemente dalla normalità della tortura e dall'utilizzo della forza. Ma il punto vero qui, ragazzi, è un altro, e cioè che l'omicidio Regeni, de Merminero Herrer, non è altro che un'estorsione, un'estorsione condotta da uno Stato, l'Egitto, ad un altro, l'Italia, che a sua volta accetta passivamente, per far buon viso a cattivo gioco, le condizioni dettate dal governo di Al-Sisi. Vediamo adesso di fare un attimo più chiarezza su quanto accaduto. Il giorno in cui Giulio Regeni scomparve non era un giorno qualsiasi per l'Egitto. Era il 25 gennaio 2016, un giorno che corrispondeva al quinto anniversario di Piazza Tarir. Al Cairo lo Stato era di massima allerta, da assedio cittadino. Alle 19 Giulio inviò l'ultimo messaggio dal suo pc rivolto alla fidanzata. Sto uscendo, diceva. La destinazione era una cena con amici. Questo, nonostante qualche settimana prima, una donna con il velo gli si fosse avvicinata per scattargli senza consenso una foto. Il sentore del fatto che forse qualcuno lo stesse tenendo d'occhio. Dopo quel messaggio Giulio scompare definitivamente dai radar con le telecamere della fermata della metro prontamente manomesse. Soltanto 7-8 giorni dopo, per via traverse, noi scopriamo che Giulio è stato trattenuto sotto sequestro dalla sicurezza nazionale egiziana, sottoposto a torture e infine brutalmente ucciso. Il suo corpo mostrava chiaramente i segni delle civizie. A rivelare la falsità dei retroscena architettati dal governo di Al-Sisi ci sarebbe stato un primo particolare iniziale. Come rivelato dalla madre di Reggeni, che avrebbe riconosciuto il figlio solo dalla punta del naso, per lei inconfondibile essendo il volto sfigurato, come avrebbero fatto i poliziotti segreti egiziani a sapere che si trattava proprio di Giulio, quando all'epoca i documenti del giovane non erano ancora stati rinvenuti ufficialmente? Ecco, già dal ritrovamento di Giulio parte la prima mezza in scena architettata per così dire dall'alto, la montatura di ripiego per chiudere al più presto il caso. La gendarmeria conclude il primo rapporto, etichettandolo sbrigativamente come un incidente stradale, ma il depistaggio non si ferma qui. Visto che il corpo venne ritrovato parzialmente nudo dalla cintola in giù, qualche giornale ne approfittò per montare titoloni nei quali suggeriva che molto probabilmente la scomparsa del ragazzo fosse dovuta a un delitto d'amore. Anche qui il tutto è stato smentito. Altro tentativo di depistaggio fu quando, a marzo dello stesso anno, cinque criminali pregiudicati per reati comuni furono eliminati a sangue freddo dalla polizia egiziana con l'accusa di essere gli assassini di Regeni, un'accusa rivelatasi infondata. Quello che però è successo al giovane fiulano fu ben diverso. Le autorità egiziane inflissero una tortura a intervalli di 12 ore fatta per far confessare a Regeni di essere una spia al servizio degli inglesi. Al che gli egiziani si resero conto che era necessario a quel punto eliminare un testimone troppo pericoloso nello stato in cui i servizi segreti lo avevano ridotto. La cosa però che risalta subito agli occhi è l'indifferenza del governo egiziano. La risposta di Rito è stata quella che si è trattata di un incidente, uno spiacevole inconveniente. Nel mentre che l'opinione pubblica faceva pressione sull'allora governo Renzi per avere delle chiare spiegazioni, lo stesso presidente egiziano, Al-Sisi, fu intervistato per due ore dal direttore del quotidiano La Repubblica. Come ovvio non sappiamo se le domande siano state trasmesse preventivamente ad Al-Sisi. Fatto sta che il presidente egiziano ha eluso gran parte di quanto è stato chiesto. E continuando un po' con questo dribbling a un certo punto arriva e dice «Questa è una ritorsione rivolta all'Egitto», disse Al-Sisi rivolgendo alla fine delle beffarde condoglianze ai genitori di Giulio, in quanto egli stesso, come avrebbe detto, era prima di tutto padre e uomo di famiglia. A questa prima intervista formale seguirono tutta una serie di incontri inconcludenti tra le squadre investigative italiane ed egiziane, con continui rinvii immotivati e soprattutto estenuanti attese. Come spiegare un comportamento così sfacciatamente ostile? Certamente a causare più danni che altro sono stati in primo luogo i media, nella loro intenzione di voler fomentare e montare una spy story poco attendibile fin dalle prime fasi dell'inchiesta. Giulio Regeni ucciso perché una spia, tonavano alcuni titoli giornalistici. A sostegno di queste affermazioni perentorie veniva enfatizzato un fatto per altro noto. Regeni, nel corso dei suoi studi, aveva collaborato tra il 2013 e il 2014 con la Oxford Analytica, agenzia informativa fondata da un ex assistente di Henry Kissinger e da Sir Colin McCall, ex capo dell'MI6, i servizi segreti britannici. Certo, con quei nomi, la Oxford Analytica doveva per forza di cosa occuparsi di intelligence, no? Peccato che a spazzar via le insinuazioni di spionaggio di Regeni siano stati gli accertamenti degli investigatori del ROS e del servizio centrale operativo che hanno passato al setaccio i conti bancari del giovane. La regola di seguire i piccioli, suggerita a suo tempo da Falcone nella sua lotta contro la mafia, anche stavolta si era dimostrata molto utile, rivelando così transazioni di modesta entità, tipiche di uno studente, un dottorando con una borsa di studio. Sul fronte egiziano fin da subito il regime ha infittito il caso di provocatori e anche di cospiratori. Un primo esempio allarmante viene dato da un tassista che parlò direttamente con Regeni. Appreso che si trattava di uno studente straniero, il tassista accusò il ragazzo di essere una spia. I taxi non a caso sono oggi lo strumento principe del governo per arrivare a controllare la rete di informazioni del paese. La notizia, stranamente ignorata dai medi italiani, all'estero invece ha avuto una certa risonanza. Il Cairo ha cercato di estendere il suo controllo sui database dei servizi privati come Uber e Karim, ma ha per ora trovato opposizione in nome della privacy. Il caso del tassista avvalora l'ipotesi che Giulio fosse sorvegliato da tempo. Tutti i suoi amici erano stati interrogati e la prima domanda che i servizi di polizia segreta avevano posto loro per inquadrare Regeni era se questo fosse uno scemele. Un'espressione denigratoria per indicare uno di sinistra. In un successivo incontro con il segretario di Stato americano John Kerry, che gli faceva notare la necessità di fare chiarezza sul caso, il ministro degli esteri egiziano, Shameshukri, rilanciò la calunnia del gioco sessuale finito male. Sui medi egiziani nel frattempo continuava la sequela di accuse che definivano Regeni come un informatore dell'Aise, cioè il controspionaggio italiano all'estero. Persino dall'alto della sua autorevolezza, il New York Times giudicava frettolosamente Regeni come una spia. Non vi erano dubbi, si affermava. I depistaggi e ritardi del governo egiziano erano e sono lo specchio di un sistema che, oltre a disprezzare i diritti umani più elementari, incoraggia e glorifica il delitto di Stato purché compiuto in difesa del potere in carica. I dati a tal riguardo sono agghiaccianti. Ogni giorno in Egitto scompaiono fino a due cittadini, come Giulio. A questo bisogna poi aggiungere un numero di circa 60 mila detenuti politici che vanno ad affollare le carceri egiziane. Ed è un numero che possiamo equiparare a città come Caltanissetta o anche Potenza. Una caserma Egitto, come definita dal nipote dell'ex primo ministro egiziano Anwar al-Sadat. Una caserma dove il numero di informatori supera il milione di individui e che dà forma a un sistema tentacolare di controllo dove, al vertice di tutto, vi è il Mukabarat. I servizi segreti che rispondono direttamente ad Al-Sisi e che dispongono di risorse provenienti da conti esteri anonimi alimentati da percentuali sui proventi del petrolio. In Italia, anche di fronte a fatti così efferati, è sempre la Realpolitik che va a scandire i passi dell'agenda politica. Dopo un anno e mezzo dal ritiro dell'ambasciatore italiano al Cairo, fatto in segno di rimostranza, Roma decise all'improvviso di riallacciare i rapporti diplomatici con gli egiziani, senza però che nulla fosse stato fatto in merito alla situazione regeni. La decisione venne pubblicata ufficialmente a ferragosto. Guarda caso la data che tradizionalmente i vari governi italiani utilizzano per diffondere provvedimenti impopolari come aumenti di tasse, patrimoniali e così via. Le motivazioni che spinsero l'Italia a voler riportare l'ambasciatore italiano in Egitto non erano certo un mistero, anzi avevano un nome e una grandezza quantificabile. Un gigantesco giacimento di gas naturale scoperto da Leni a oltre 190 km a largo di Port Said. Il deposito di Zor. Una miniera di 850 miliardi di metri cubi, equivalenti a più di 5 miliardi e mezzo di barili di petrolio, forse la fonte di combustibili più sostanziosa del Mediterraneo. Il silenzio imbarazzante del governo italiano esemplificava la portata dei profitti che c'era in gioco, tale da impedire alla politica italiana di esprimere con vehemenza il dissenso verso l'Egitto. E guarda caso il rinvenimento del corpo di Regeni è coinciso con il perfezionamento dei contratti petroliferi del giacimento di Zor. La scoperta dell'Eni fu talmente sensazionale che all'epoca l'ex premier Renzi ringraziò ufficialmente l'ente petrolifero nazionale. Nessun primo ministro, prima di allora, si era mai azzardato a ringraziare l'Eni di una scoperta di giacimenti nel Nord Africa, neanche all'epoca di Mattei. Ad essere interessati alla zona per motivi di geopolitica dell'energia, che tra l'altro vi riconsiglio di andare a vedere o anzi ascoltare il podcast che ho fatto per l'occasione, sono stati e sono attualmente soprattutto gran Bretagna e Russia. La scoperta di Zor e gli accordi dell'Eni con gli egiziani prevedevano l'esclusione di attori come gli inglesi e i russi, specialmente i primi, che a tutela dei rilevanti interessi della British Petroleum avrebbero preventivamente cercato di deteriorare i rapporti italo-egiziani per introdursi nel mercato locale. Sentitasi tradita per essere rimasta esclusa dal grosso business degli idrocarburi di Zor, dopo che aveva investito molte risorse nello sviluppo energetico dell'Egitto, la Gran Bretagna avviò in tutti i modi un lungo braccio di ferro contornato da mosse e contromosse dell'intelligence inglese contro l'Eni, finché l'azienda italiana non fu costretta a cedere il 10% della società che cura la gestione del maxigiacimento alla British Petroleum e un 30% alla Rosneft russa. Per mettere i bastoni tra le ruote nei rapporti tra governo di Roma ed il Cairo a quel punto sarebbe bastato pochissimo. Gli inglesi ne erano consapevoli. Magari sarebbe bastata, chi lo sa, una soffiata anonima, non verificata, che segnalasse agli egiziani Regeni come una spia, lasciando in tal modo che a far partire la valanga fosse la cieca violenza del regime di Alsisi. D'altronde Regeni era noto per le sue simpatie verso i sindacati egiziani e la corona britannica tracciava ogni suo movimento, dato che Giulio era un ricercatore stipendiato dall'Università di Cambridge. Era il capro espiatorio perfetto per far scattare la scintilla. Giulio era la persona giusta al momento giusto. Le testate dell'establishment britannico cominciarono a sfoggiare in prima pagina titoli sensazionalistici, con l'obiettivo di infliggere il massimo danno alle relazioni italo-egiziane. Ma oltre al casus belli lanciato dagli inglesi c'era di più. La situazione sfuggì di mano quando gli apparati di sicurezza interni egiziani andarono in tilt a causa della paranoica cultura del sospetto intrinseca al sistema di Alsisi. Ritrovatosi tra le mani il corpo di un italiano incolpato di spionaggio e cospirazione internazionale, di attentato alla vita del presidente di istigazione alla rivolta dei laboratori e dei sindacati egiziani, il servizio segreto militare informò quello civile per procedere al seppellimento del cadavere come pratica ormai consolidata nel deserto. I cattivi rapporti tra le due centrali, militare e civile, però avrebbero ingolfato il tentativo di insabbiare il caso. Ed è così che, anziché sparire tra le dune del deserto, Regeni viene ritrovato vicino a una carreggiata provinciale. Il fallito tentativo di nascondere le prove, stando ai dossier rinvenuti, avrebbe fatto ricadere le colpe al ministro degli interni Abdel Gaffar, al quale vennero intimate subito le dimissioni. Io non le do. Se siete uomini veri, mi destituite in pubblica piazza, altrimenti ci ritroviamo tutti davanti a una corte penale. Così avrebbe minacciato al personale militare di Alsisi, come riportato all'interno del fascicolo M1 25 2009. Ed è a quel punto che, per salvare diverse teste in seno al ministero degli interni, il governo egiziano avrebbe escogitato l'assurdo piano di orchestrare un finto scontro armato, giustiziare cinque malcapitati qualsiasi spacciati per criminali e farne così i capri espiatori del caso Regeni. Un piano che, se davvero è stato imbastito dalla mente dei migliori generali egiziani messi insieme, veri uomini duri, mostra tutta la sua debolezza. Un bambino avrebbe saputo progettarlo meglio. A denotare il fuoco di sbarramento posto dall'Egitto è stata poi la distruzione delle prove materiali. Nel maggio 2018 Roma venne informata, dopo quasi due anni di ritardo, della disponibilità dei filmati delle telecamere di controllo all'ingresso della stazione metro dove Regeni era scomparso. Guarda caso il tempo necessario per cancellare il filmato e far calmare le acque. Come dichiarato infatti dai comunicati congiunti della Procura della Repubblica, mancherebbero giusto i 20 minuti di riprese che intercorrono tra le 19 e le 21 del 25 gennaio, proprio le ore della scomparsa di giugno. Quanto ad Al-Sisi, egli ha sempre sostenuto che il suo governo, seppur figlio di una presa di potere militare, sia legittimato da un consenso schiacciante ottenuto con regolari elezioni democratiche nel 2014. Al netto di quanto celebrato dal Sisi, è comunque un dato di fatto che nel paese la classe militare, così come le loro famiglie, controllino più del 50% delle attività produttive del paese, come anche i posti chiave nella pubblica amministrazione. Ad essere in costante ascesa, a differenza del PIL nazionale, è proprio chi lavora all'interno delle forze armate. Parleremo in un prossimo video, più nel profondo, di come il controllo del potere da parte dei militari in Egitto sia una storia di lungo corso, a partire dal 1952 con il colpo di stato dei giovani ufficiali e la destituzione di Re Farouk, ma non è una cosa che voglio affrontare in questo momento. La caduta di Mubarak nel 2011, dopo 30 anni di governo incontrastato, la breve parentesi di Mohamed Morsi, candidato dei fratelli musulmani, e la sua destituzione da parte del generale futuro presidente al Sisi nel luglio 2013, sono delle chiare dimostrazioni assodate. E cioè che in 60 e più anni di dominio incontrastato, la casta militare ha plasmato a propria immagine la società egiziana nelle sue strutture portanti, dove privilegi e guadagni vengono garantiti esclusivamente a chi supporta il potere in carica, questo come ai tempi del protettorato britannico. Per mantenere intatto il controllo del paese, la casta militare capitanata dal Sisi si affida in larga misura alla mano della polizia, alla quale sono consentiti ampi margini di illegalità e anche all'utilizzo di una propaganda che incita i cittadini egiziani a segnalare come potenziali spie gli stranieri che si interessano troppo da vicino alle dinamiche interne del paese. E' il caso questo del video girato in segreto dal sindacalista dei venditori di strada, Mohamed Abdallah, mentre parla con Giulio per oltre un'ora e mezza su come poter essere finanziato dal governo britannico per scopi personali. Abdallah inviò successivamente ai servizi egiziani il video, denunciando il ricercatore italiano indicandolo come obiettivo potenzialmente pericoloso. Un filmato eloquente che per gli investigatori confermerebbe il coinvolgimento della polizia egiziana nella realizzazione del video. Sia chiaro, Giulio non è l'unico caso purtroppo a livello internazionale in Egitto. Un esempio è Eric Lang, professore di francese che da oltre vent'anni insegnava al Cairo. Fermato senza passaporto per le strade della città, trovato con in mano una bottiglia di vino, giudicato sovversivo al governo di Alsisi e pestato a morte nel settembre 2013, Eric Lang ricorda molto la vicenda Regeni. I genitori di Lang si sono appellati a Macron per chiarire per quale motivo il corpo di loro figlio presentasse colpi riconducibili a sprangate di ferro. Già, 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 quello stesso presidente Macron che ha dato tutti gli onori ad al Sisi. Evidentemente Macron preferisce anteporre la vendita dei Rafale, cioè gli aerei da combattimento che la Francia venderebbe agli egiziani, al posto della misera vita di un suo concittadino, stroncata dalla nevrotica propaganda egiziana. L'imbarazzo del governo italiano nell'avere un partner economico come l'Egitto, a livello sia di scambi energetici che di esportazioni militari, non fa altro che acuire il simbolismo che giace sotto quello che si potrebbe definire un vero e proprio ricatto di Stato. E a tal riguardo non posso che non consigliarvi di andare a vedere il video di Jacopo nel suo canale Paravellum, dove lui va ad approfondire molto meglio, di quanto io possa fare, la questione della vendita delle fregate italiane all'Egitto di Al Sisi. Nel 2018 il ministro degli esteri francese L'Edrian annunciò a suo tempo che il business delle esportazioni di armi e di tecnologie francesi verso l'Egitto era più florido che mai. Un mercato che aveva reso l'Eliseo un partner privilegiato di un regime che, con il pretesto di neutralizzare la minaccia dei fratelli musulmani, colpiva indiscriminatamente qualsiasi voce potesse sollevarsi contro il pensiero unico di Al Sisi. E siccome pecuniano no let, il denaro non puzza, gli affari per le aziende francesi e anche italiane, sia chiaro, non hanno decisamente risentito del clima di repressione a 360 gradi che si è andato a instaurare con il regime di Al Sisi. Le forniture di armamenti sono così aumentate nel tempo da un fatturato di 39 milioni nel 2010 a oltre un miliardo e anche di più negli ultimi anni. E mi pare superfluo dire che questi armamenti, gli egiziani, non è che si ritengono nello scantinato o nello sgabuzzino di qualche base militare a prendere polvere. La repressione interna è tanto egiziana quanto occidentale. A partire dagli anni 2000 l'Egitto, per rafforzare la censura digitale a social e rete, ha chiesto l'aiuto delle società francesi nella creazione di un sistema informatico più performante. In tal senso società come Nexa Technologies ed Aircom, quest'ultima fornitrice storica dei servizi segreti francesi, hanno venduto nel 2014 al governo di Al Sisi un sistema di intercettazione delle telecomunicazioni in grado di tracciare chiamate telefoniche ed SMS o anche di monitorare la posta elettronica e geolocalizzare eventuali cittadini da colpire, il tutto sotto il benestare placido dell'Eliseo. Ad appesantire il piatto della bilancia diplomatica a favore del governo di Al Sisi c'è poi il canale di Suez, lo snodo marittimo più importante per chi commercia nel Mediterraneo. Con un deterioramento dei rapporti, l'Egitto sa bene che la minaccia di chiudere l'accesso al canale di Suez sarebbe un deterrente più che sufficiente per far abbassare la cresta ai suoi partner economici. Il fatto è che la verità non verrà mai a galla, probabilmente neanche quando fra 20 o 30 anni i documenti di Stato saranno desecretati. Purtroppo, a conti fatti, il governo egiziano molto probabilmente non farà niente, dato che non ha mai ammesso neanche minimamente l'evidenza delle proprie responsabilità. A conferma del coinvolgimento egiziano è emersa inoltre nel 2019 l'accusa di un poliziotto kenyota, anonimo per motivi di sicurezza, secondo il quale, prima del suo arresto, Regeni era stato tenuto sotto stretto controllo da diversi giorni. Lo avevamo scambiato per una spia inglese. Parole che sembrerebbero inchiodare alle loro responsabilità, al loro errore, i servizi segreti egiziani. Ma chi fu la talpa che segnalò quell'errore volontario? In mancanza di una volontà politica ferrea, decisa del nostro governo, disposto a rompere qualsiasi accordo economico con un paese del genere, poco si potrà fare. Oltre alla sua efferatezza, il caso Regeni ha posto sotto i riflettori tutto il perbenismo, tutta l'ipocrisia della nostra classe politica, di fronte ai propri interessi. E lo ha fatto con una semplice domanda. Quanto è fedele il nostro Stato dinnanzi ai principi di libertà? Quanto è fedele quella politica deludente che invece dovrebbe rappresentarci nel difendere i nostri valori? Finché l'Italia non si dimostrerà all'altezza del suo nome, per me questa domanda non troverà mai una risposta. Ragazzi, io ringrazio caldamente per avermi ascoltato fino a questo punto. Vi auguro un buon Natale nonostante tutte le difficoltà. Ci vediamo presto per Aspera ad Astra.